Nel primo semestre 2020 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato è diminuito del 41,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quasi 33.000 nuove assunzioni in meno, è quanto rileva il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo su rielaborazione dei dati IMSS. La contrazione è l'effetto dell'emergenza legata alla pandemia e alla caduta di produzione e consumi. La flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali ed è stata particolarmente accentuata per i rapporti che prevedono un termine in particolare per le assunzioni in somministrazione e per quelle stagionali. Tra marzo e maggio si è registrato un crollo dei flussi di assunzioni rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre a giugno si rileva una parziale attenuazione. Aprile è stato il mese più critico, con un numero di ingressi nel mercato del lavoro diminuito dell'81,7%. In quel mese le assunzioni stagionali si sono quasi azzerate, battuta dal resto anche per i contratti di lavoro intermittente. Nel primo semestre sono calate anche le interruzioni dei rapporti di lavoro, meno 20,5%. Per quanto concerne le motivazioni, la flessione maggiore ha riguardato quelle di natura economica, anche per effetto del blocco dei licenziamenti introdotto dal Cura Italia. Nel periodo preso in considerazione è diminuito anche il numero di variazioni contrattuali e sono aumentate le domande di disoccupazione. Grazie a tutti.